Io sono nato e perciò Gianluio mi ha chiamato, poi per distinguermi dal cioccolato, infatti Mulatto mi ha impitturato e un accetto in più mi ha sondato, che è un cappello diventato a forma di mole e di venuto. Tutto il mio coprecapo a forma di mole è nato un guacamole, tanti pensieri mi sono una vintessa, ricoperta da una foresta di riccioli piccoli come truscoli, allora io ritorno alla natura che è sempre una cura e le zolle facce mi danno, senza più affanno ma con fervore mi ti prego per un umano il migliore, e poi allargati qui, perfetta, guarda che bella, sì, mi chiamo Gianluio Sto perché sempre felice sto, sulle rive del Po c'è sempre posto per un amico in più, se ti siete qua giù insieme a noi che della città siamo i nuovi eroi, grande, poi la carne, la San Giovanni, niente di Sonia, noi più posti, sole sempre e siamo i nuovi ospiti, ma mi piace stare in compagnia con i amici di Chichi biai, ciao! Ciao, sono appena nato. Già, sono appena nato. Nel 2018. Già si dice per senti incontrato. E se vuole fare un pezzo di pasta, nemmeno. Se vuole fare un pezzo di pasta. E se vuole fare un pezzo di pasta. Adesso nel 2018. E' stato un pezzo di pasta. Ci vediamo a carnevale tutti insieme per un grande finale. E se vuole fare un pezzo di pasta. Con la cora in mano. Vieni più su, dico. Io sono un italiano. Un italiano nemmeno. Vogliamo fare il coro, Simonetta? Ma io sono brava. Lasciatemi cantare. Con la cora in mano. Sai com'è la cora? E' uno strumento africano fatto da una zucca. Che si suona così come un'arca. E' bellissima. Una chitarra con tante corde. E' una chitarra. E' una chitarra. Lasciatemi cantare. Gianduiotto. Come ancora in mano. Gianduiotto, vieni a mettere il cappello. Che ha fatto questo cappello? Vieni. Gianduiotto, sempre felice. Vieni qua, metti il capello, e la maraca, se lo metti bene, vieni, con la maraca, la cucaraccia, la cucaraccia. Basta con una torino grigia tecnica, vogliamo una torino colorata e multietnica. La ricetta per un nuovo tiramisu, avanti Gianduiotti e sotto i savoiardi, la ricetta per il nuovo tiramisu. Questa è un'altra della bagna cauda, com'era? E' finita l'era della bagna cauda. E' finita l'era sabauda. L'ora in avanti è una nuova bagna cauda, con tutte le verdure delle migliori culture. Ciao a tutti, ci vediamo presto, Gianduiotti del mondo! Ciao! Ciao! Ci vediamo al Moi! Ci vediamo al Moi, ci vediamo al Moi, alle 3!